Buonasera, le stesse richieste che abbiamo avanzato con l'ordinanza riproporremo stasera al tavolo col governo, vedremo quali saranno le risposte, ci vediamo dopo. Se il Presidente ci invita e raccoglie la nostra proposta di un confronto, vuol dire che ha qualche risposta da dare. Dico anche la presenza di tutti questi ministri, oltre Gualtieri, Lamorgese, Di Maio, Guerini, Di Michelli. La strategia del Presidente del Consiglio, non certamente nostra, noi ascolteremo. Poteri speciali al governatore, cosa vi aspettate? Il governatore non ha chiesto poteri speciali, ha chiesto soltanto di prendere atto dei diritti umanitari e quindi sanitari dei siciliani e degli stessi migranti. Vedremo, vedremo quello che uscirà fuori. Non mi faccio molte illusioni, ve lo confesso. Non si fa molte illusioni, potrebbe essere un difficile oggetto di pensare in servizio al governo.